Ciao, salve a tutti. Vorrei ringraziare Sergio per l'invito per partecipare a racconti in tempo di bestie, anche se siamo alle presi con una bestia invisibile. Quindi per combattere una bestia invisibile dobbiamo renderci invisibili anche noi, rimanendo in casa. Purtroppo ce l'hanno detto in tutte le lingue, ma c'è qualcuno che ancora non si rende conto della gravità della situazione. Per esempio in Cina gliel'hanno detto a 60 milioni di persone che non è uscito di casa e non è uscito nessuno. Ora ho capito perché, perché gliel'hanno detto in cinese, quindi dovrebbero dircelo in cinese, magari ci rendiamo conto. Un pensiero va ai parenti delle vittime e ai operatori sanitari in prima legna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiru nari in te ha chiru mokidi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie di cuore.